Oggi davanti alla sede del Consiglio del Municipio Nono Roma Eur, a seguito della notizia secondo la quale una consigliere del Municipio Nono, appartenente al Movimento 5 Stelle, ha abbandonato il gruppo pentastellato. La maggioranza oggi è dunque risicata, incapace di produrre azione politica a favore del territorio. Chiediamo dunque un passo indietro, un atto di responsabilità da parte del Presidente del Municipio Pentastellato o almeno che venga presentata e approvata una mozione di sfiducia, naturalmente, per mandare a casa questa giunta. Ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiede questo territorio martoriato da tante questioni e da tanti problemi irrisolti.